E' alla sesta edizione il raduno ricordando il battaglione Alpini-L'Aquila che riempirà di penne nere il capoluogo di regione dal 31 agosto al 2 settembre. Evento organizzato dall'Associazione Nazionale Alpini, sezione Abruzzia, rappresenta il presidente D'Alfonso. E' un anno particolare perché ricorre l'ottantesimo anniversario della tragica ritirata di Russia, un fatto che suscita sempre emozioni. Un raduno nel quale la città riaccoglierà il nono reggimento alpini di ritorno dalla missione in Kosovo. Anche in questa edizione l'obiettivo è condividere la cultura alpina con le giovani generazioni. Noi stiamo cercando proprio di far vivere la cultura alpina con le nuove generazioni in quanto il nono reggimento alpini è parte del grande della città dell'Aquila e noi stiamo cercando proprio di fare questo. Poi in questo sesto raduno c'è una valenza particolare in quanto ricade l'ottantesimo dalla ritirata di Russia dove il battaglione fu decimato. E' un programma sempre molto intenso, arriveranno anche dei gruppi provenienti da fuori regione. L'obiettivo è stare insieme sempre all'insegna dell'allegria e del ricordo però. Assolutamente sì, verranno almeno i gruppi abruzzesi, ci saranno quasi tutti e vengono almeno dalle regioni limitrofe. Abbiamo delle presenze anche dal Veneto. Il programma è stato presentato in Comune, c'era anche il sindaco per Luigi Biondi, un programma ricco con momenti di riflessione e ricordo di chi non c'è più, convegni storici, cori e altro con il clune la giornata di sabato quando alle 10.15 inizierà la sfilata che da Biale Gran Sasso arriverà alla Basilica di Colle Maggio.